OAAAAA La Roma è passita Benvenuti ragazzi e bentornati su Footwork Italia Oggi su Youtube Italia La tedesca più estrema di tutte Footwork insieme ai Pirlas Ciao ragazzi Sono venuti qua per spaccare come al solito Chi vincerà? Pirlas o Footwork? Di solito dico sul vostro canale che vinciamo noi e non vinciamo noi Quindi questa volta dico che vince Gunther Complimenti a Gunther per la vittoria Ragazzi mi raccomando Prima dell'inizio del video Commentate se vincerà un footwork O un pirlas Ma soprattutto iscrivetevi al canale Perché vogliamo arrivare a 500 500 mila iscritti Entro fine anno Mi raccomando 500 iscritti ai footwork Conoscete una tedesca? Chi comincia in porta L'ultimo che tocca Lo stiamo nella Olanda L'ultimo che tocca Non a chi non lo tocca Non siamo per niente ospitale ragazzi Ma andiamo subito a rompirlas in porta Vediamo come andrà Bella mia E' sul fratello Non viste mai Di mancino Su Gnabry Bella mia Eccola lì Punta al figo Punta in porta Oh la bloccata Oh Gnabry Gnabry Prima che continui il video ragazzi Però abbiamo un messaggio per voi O per tutte quelle persone Che sono appassionate alla tecnologia Oppure semplicemente in cerca Di una svolta lavorativa Molto interessante Oggi vogliamo parlarvi di Aulab Academy Ovvero un corso online Della durata di tre mesi Che potete svolgere Comodamente da casa Per esempio Imparare a scrivere codici E diventare sviluppatore web Un lavoro super richiesto Dalle aziende In questo momento Basta dare un'occhiata LinkedIn Per vedere Quante offerte di lavoro Ci sono per questo settore Potete iniziare il corso Partendo anche da zero Perché non sono richieste Competenze informatiche Pregresse I docenti e i tutor Saranno sempre a vostra disposizione All'interno dell'aula virtuale Dopo il corso viene offerto Agli studenti Un accompagnamento al lavoro Per entrare in contatto Con centinaia di aziende Alla ricerca di sviluppatori web Pensate che oltre il 95% Di studenti Trova lavoro Entro sei mesi Dalla fine del corso E pensa caro Gunther Che ragazzi Che hanno meno di 30 anni Se non riescono a trovare lavoro Entro sei mesi Dalla fine del corso Aulabacademy Rimborcerà completamente Il costo del corso E c'è anche uno sconto speciale Riservato a voi ragazzi Trovate tutto nel link in descrizione Quindi Andate sul corso Di Aulabacademy E adesso Ripartiamo con il video Crossover Alla fine di rete Bella questa Mamma mia Ti prova col colpo Del Giguaro La piazza Bella Non è con Barnaldo Da Poggio Era una finta per Barnaldo Che ti inserisce Ed è il fame E poi di me Vai lì Ti tocco Vai stacca Questa è una torretta Di qualità Si ancora Vergognati Non ho scannato Questi iniziano adesso A dire che scanno Un tentativo di cross Bello Stacchetto 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 sportivo Bella Let's go Tutto a posto Su Wtork Italia Bello Piazzatino E' tornata la Roma Sìi E' va E' va E va E' va Mia Esatto E' bello NOOOOO E' la mette Bello Bello zio In tandem col barnaldo o mamma ma come sbombare ragazzi ma questo sono sbombato adesso si sa sbombare vediamo grande pietà bello me ne hanno fatti due ma barnaldo è più di fame di pier e lui che andreva bello bello che portiere guardali ai 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 scusate ragazzi se io ogni giro e le provo questo neanche loro lo sanno fare perché la vicino se si porta a giocare la tocchi piano e la angoli non scagni a caso giusto nicola cross oh mamma vai 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 quando è riuscito male di norma nicola ha avuto un colo pieno per assicurarsi gol C'è anche la firma il Pierino qua Fiera rientra tu ancora Me l'ha chiesto e gli ho fatto un favore Con calma, con calma, con calma, andiamo avanti Pronta per te Pier, e se l'ho tornata Al Barnaldo Bene, 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 bene Bene, il video diventa interessante ragazzi Eccomi Si difende Beh, è partita la difesa Oh mamma Eccolo Eccolo Bello da dire In area piccola, come piace Nicola Sì, Pier, vissima Ragazzi ma Dicono a me che è un tiro da vicino Si però Barna questo era un tiro Di tacco al volo No look Si Entra in porta Come avete visto Nicola ha usato un abile stratagemma per far entrare in porta Aia Bacca al volo Bacca al volo Ragazzi al volo E' de goal E' de goal E' de goal Si E' de goal Vieni, vieni, tirala fuori Oh dazio, figlio Dai Sei in area piccola ora L'azione Bacca al volo Mamma mia Torretta qui in tupla Chiusura di Gnabry Vai Gnabry Andiamo avanti Io E' da fuori No, pronto Eccolo il falco dell'area piccola Era di quello pieno, no, era di piatto quindi va bene Iniziano a scaldarsi di anime Allo Questo qua lo farò più forte a te, stesso posto ma tre volte più forte Vedremo Continuate a vedere il video per scoprire cosa succede Classico Una manna dal cielo perché iniziamo a vedermela brutta qua Un assedio, è un assedio Gollenzio Ma si rai il tipo, fai il trucco Oh no, il trucco, eccola Mamma mia Eccolo, di testicolo destro La mette fuori Eccolo Eccolo qua Apriamo il piattone La Roma, cioè, è tornata Bello Non serve sbombare Sì Sì Bella Sì Sì Era proprio questo, il momento che io ho sognato da ragazzino Questo qui era il mio incumo invece Eccolo Eccolo Ciao bannone Ciao bannone, Nicola Purtroppo ragazzi Sono sempre quello che si mette in mezzo alle faide per darvi spettacolo ragazzi Il mio unico desiderio è che uno dei fratelli gentili, ovvero i miei amici Pirlas Possano battere il boss finale che non sono mai riuscito a battere Ci penseremo noi Vai, fai più in volta Ragazzi ci ho provato Cercate di giocare Equo Fino all'ultimo Tutti contro Guter Ora esco Tra i due litiganti Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto gode Bello Ghiacciato Sì, è stato veramente Portiamo da una parte Palla dall'altra Povellato ancora Grazie Harry Ma che partita Stava giallo la Roma Ma che partita Stai che steguita Lo mettono anche l'applauso Filippo Aaaaaah E' andato a tre Ma che partita E' andato a tre Mamma che golla Che giocatori E' una fuori al basmo Questa è l'infanata E' no Che gol Sono contento comunque della mia prestazione Ma bisogna lasciare spazio a sti torri Chi sarà il prescelto Fuori Nel senso io fuori dal gioco Avevo già previsto tutto ragazzi E adesso vado a fare la doccia anch'io Gabri siamo rimasti io e te Complimenti Spida ai rigori ad oltranza Pirla scontro footwork Vediamo chi vincerà Ho già eliminato un Gentili Sei secondo che manca Parto io in porta Parti parti Ragazzi se sbaglio vincono i Pirlas Oh mamma La mette lì Tu che non batte il show Dai Gabri Tra presenti i Pirlas vu Ricordatelo Ok Ascoltate il pallone Guarda il ragazzi Sì Ancora lì Dai Sbagliarlo ancora Dai Vai Valvola Ascoltate Metti da dentro Apri Oddio La mette ancora E se va avanti Sarà duro per i Pirlas Laddove non si può arrivare Mettiamo in pressione Non lo so Seva Vace Avanti Piero guarda Stoccom Tiro No E guarda anche questa C'è un vincitore Gran match Gran partita Speriamo vi sia piaciuto Mi raccomando Andate anche sul loro canale Perché sono usciti dei video Molto interessanti Vi ricordiamo L'obiettivo di quest'anno Che è arrivare a 500 iscritti 500.000 No Ok Ragazzi mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un like No ci vediamo alla prossima Velo No 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 Grazie a tutti